Ha traccato alla banchina dell'ex stazione marittima intorno alle 7.15 di lunedì 12 settembre la nave da crociera a Rindam della Holland American Line con 1200 passeggeri. Si tratta di una delle 13 lussuose unità di una compagnia fondata nel 1873 per svolgere i primi collegamenti transatlantici tra Europa e Stati Uniti. La Holland American Line è specializzata in crociere in ogni angolo del mondo. Nota positiva, questa volta tantissimi croceristi che hanno scelto di restare in città a piedi con bici a noleggio a bordo di un trenino invece della consueta e solita escursione nel Salento. L'ennesima giornata di caldo a foso non ha agevolato le passeggiate e purtroppo tantissimi negozi rimasti chiusi rispettando il turno di riposo del lunedì mattina. Il perché ancora è un mistero, probabilmente qualcuno ha approfittato della bella giornata estiva per un'altra giornata di mare, rinunciando ai possibili guadagni provenienti dall'arrivo dei croceristi.